Al filo si dice di questa domanda del Liverpool, del Valencia, quando una squadra cresce e si vede che la squadra capisce, i giocatori capiscono e la squadra continua a giocare bene e a vincere le partite, l'attore è molto più soddisfatto. Non si diverte solo quando la squadra vince 5-0 hanno un po' di tempo per divertirti, ma se no almeno la sensazione di che il lavoro che si fa parla. Questa squadra sta crescendo e mi piace tantissimo.